Buongiorno ragazzi, anche quest'oggi, primo dicembre 2019, nonostante la bellissima giornata che ci accompagna, abbiamo provato ad arrivare sul bivacco Fusco, ma le condizioni sono proibitive nonostante i ramponi e le attrezzature varie ed eventuali. Questa giornata vi presento quello che ci si mostra intorno, questa è la prima neve della stagione, ma vi posso dire che è tutto completamente ghiacciato, anche i ramponi non riescono ad entrare, naturalmente il rischio di cadere è alto, quindi abbiamo optato per ritornare giù a fonte viva, acqua viva scusatevi, per il pranzo. Con questo vi auguro una buona domenica e una buona giornata, vi salutano tutti quanti gli escursionisti che sono con me, un attimo che vi faccio vedere. L'escursionista curioso col freddo non parla neanche più, avete visto? Comunque vi auguro una buona domenica e seguitemi, cliccate mi piace e la campanellina per le notifiche. Ciao ciao!